Poi naturalmente durante la fine di signore e signori ho litigato anche con lui, ero disperato perché erano dieci anni che lavoravamo insieme, gli volevo bene, per me era come un padre, un fratello più grande, per dimenticare sono andato al casino di Venezia e mi sono mangiato tutto, sono stato otto giorni, sono tornato a Roma che non avevo una lira nel conto corrente ma avevo tutte le bollette nella buca della porta, pagare luce, telefono, disperato un'altra volta nella miseria, se non che hanno bussato alla porta, è entrato quasi rotolando Sergio Leone a propormi, aveva paura di fare il secondo film dopo il successo di Per un pugno di dollari, a propormi di fare il prossimo film, aveva un trattamento che si chiamava La collina degli stivali, mi pagavano bene, mi davano anche una percentuale sugli utili e io mi divertì e in nove giorni scrissi per qualche dollaro in più, cambiando anche il titolo, dandogli il titolo per qualche dollaro in più, hai fatto per un pugno di dollari, fanno per qualche dollaro in più e furono molti milioni di dollari in più per il film. Io conobbi Luciano subito dopo che Sergio Leone un giorno irrompendo nell'ufficio dell'avvocato Grimaldi che doveva produrre il suo secondo film che era per qualche dollaro in più, disse al produttore, proprio a Grimaldi, cercavamo questo importante sceneggiatore, io l'ho trovato e l'avvocato Grimaldi ha detto ma chi è questo grande sceneggiatore? Dice Luciano Vincenzoni, ma ti pare che Luciano fa? Ma lo fa, noi ci conosciamo da tanto tempo, gli ho chiesto se lo fa e lui mi ha detto che lo farà.